Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono il compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, il nobile non è la mia professione. Oltre alla composizione, ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar.